Quella attraente carnevalesca e l'associazione Carristi ormai è guerra aperta, gli uni contro gli altri con visioni e prospettive diverse. Carnevalesca arroccata sulle sue posizioni e le manette del vapore su avanti tutta, e i carristi invece che continuano a chiedere a squarciagola un tavolo a più parti per una progettazione condivisa sul futuro del carnevale, per farlo crescere e sviluppare. In mezzo ai duellanti, a soffrirne, proprio lui, il soggetto del contendere, l'attore principale, il carnevale. La rottura non l'abbiamo creata, la rottura è venuta. Noi abbiamo fondamentalmente chiesto ripetutamente alla carnesca un tavolo a cui ci siamo seduti, ma da questo tavolo non è mai uscito nulla di costruttivo, anzi per cui questa rottura è stata una conseguenza. Dobbiamo metterci tutti quanti insieme a un tavolo e fare un progetto di rilancio del carnevale e della città stessa. Quando vai a vendere un prodotto fai prima il progetto da presentare e poi dopo cerchi anche i finanziamenti per poterlo realizzare. Qui si parte un po' al contrario, si aspetta i finanziamenti e poi in base a quello che c'è si fa. Noi pensiamo, tutti i carristi uniti, è una bella cosa questa, siamo tutti uniti, che invece tocca fare prima un bel progetto e poi si va a venderlo in giro, a risponso. I carristi, uniti come non mai, non vogliono che il carnevale muoia, questo è certo, perché i carri per loro sono l'essenza del carnevale, l'anima vera che fa stare con il naso all'insù, in attesa dei dolci lanciati o meglio gettati proprio dai carri. Il carro di carnevale è il seme, è l'origine, l'essenza prima del carnevale, nella quale i giovani e vecchi carristi cercano di esprimere quella cultura popolare della gente di Fano che altre città ci invidiano e questo è il significato. Se mancano i carri è praticamente come dire che il carnevale muore. Siamo alla guerra, carri contro caramelle, risultato? Niente bozzetti e niente carri nuovi e si prospetta un carnevale dal sapore riscaldato per il 2016. Noi vogliamo partecipare alla redazione di un progetto ottimale che va da regime nell'ambito triennale o quinquennale, poi lo decideremo insieme, e lo vogliamo costruire non con progetti preconfezionati che ci vengono da una direzione egocentrica che non vuole nessuna partecipazione, ma da montavolo dove si devono sedere i rappresentanti del commercio, i rappresentanti del turismo, i rappresentanti dell'amministrazione comunale, politici e anche tecnici, e insieme ai carristi e alle altre andare a trovare anche quegli sponsor, quelle collaborazioni, quei finanziamenti che possono avviare un progetto di investimento vero. Noi proponiamo un progetto per la città, non proponiamo solo coriandoli.